Grazie! Vincolo bene tra... Oh! Ciuffo pazzesco! Ma... Vedi cosa hai messo? Ma anche tu stai bene? Grazie, sei bellissimo, col pizzetto, il baffo, tutto appunto, anche il ciuffo... Sei felice? Stai bene? Ti è piaciuto? Molto! Sei felice? Sì, adesso ti tocca! Eh, tocca a Piero! Bene! Acido ora, giustamente! E perché lui... Spiegami una cosa, vieni qua! Ma per tenere sto ciuffo sempre così, no? Cosa usi? Perché io ho provato a farmi il ciuffo come ti fai tu, no? Però... No, tendo a mettere il capello più alto per raggiungere la tua altezza, visto che purtroppo... Vedi che devo mettere per... Per arrivare a 1,75 devo mettere il tacco e il ciuffo più alto, vedi? Sembra più alto di te oggi, vedi? Allora, noi vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli. Ciao a tutti! Sì, adesso vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli, ma per i capelli, ma per i capelli, ma per i capelli. Sì, adesso vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli, ma per i capelli, ma per i capelli. Sì, adesso vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli, ma per i capelli. Sì, adesso vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli, ma per i capelli. Sì, adesso vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli, ma per i capelli. Sì, adesso vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli. Sì, adesso vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli. Sì, adesso vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli. Sì, adesso vi lasciamo con Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli. Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli. Piero, mi faccio spiegare cosa usa per i capelli. Grazie a tutti.